Con l'accusa di atti sessuali nei confronti di un minore è finito agli arresti domiciliari un meccanico di Montesano sulla Marcellana, paese in cui vive anche il ragazzo di cui avrebbe abusato. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla procura della Repubblica di Lago Negro al termine di accurata indagine da parte della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina. Un'inchiesta scattata a seguito della denuncia presentata in caserma dal padre del 17enne a disposizione degli inquirenti anche delle immagini arde inoltrate dal meccanico di 47 anni al minorenne. L'episodio finito sotto inchiesta risale ad un mese fa. Il ragazzino si è recato in officina per controllare il suo scooter. Dopo la riparazione l'uomo, Caeli ben censurato, ha invitato il 17enne a prendere un aperitivo. Usciti dal bar invece di dirigersi verso l'officina il meccanico alla guida della sua auto e con al fianco il ragazzino si è fermato in una zona isolata e l'ha costretto a toccargli le parti intime. Dopodiché l'ha minacciato per evitare che denunciasse tutto. Successivamente l'uomo ha inoltrato al minorenne foto di organi genitali maschili e per spaventarlo lo avrebbe investito mentre era in sella al suo scooter provocandogli delle lesioni. Dopo quest'ultimo incidente il 17enne ha raccontato tutto al padre che senza esitare si è rivolto alla giustizia, il meccanico di Montesano e ora agli arresti domiciliari.